Ciao a tutti! Allora, niente, dopo vari video che abbiamo fatto, ormai mi sembra giusto a dover dare alcune spiegazioni, no? Allora, io sono Elvis, lui è Aaron e siamo i Panic Gamers, facciamo... Chiamati su YouTube, eh? Sì, esatto, su YouTube siamo i Panic Gamers. E niente, in questo momento siamo sul canale di Shily Talent che ho messo qua sotto in descrizione e praticamente spieghiamo un attimino chi siamo. Niente, siamo due game player, giochiamo con videogiochi, seguiamo la linea di Favij e, perché no, anche di Piedepai, esatto, che fanno la maggior parte dei giochi indie game, degli giochi indie. E niente, noi lo facciamo però nel... sì, lo facciamo satirico a modo nostro, non copiamo nessuno, però seguiamo la linea dei giochi indie. Cerchiamo di farlo al nostro meglio, all'inizio dei nostri video c'è sempre uno sketch, dove praticamente uno di noi due fa il macco, eh? Anche un po' tutti e due, eh? Sì, esatto. E speriamo di essere all'altezza, di essere piaciuti alla gente, o come si dice, di essere graditi, ecco. Hai qualcosa da aggiungere? Sì, che tu comunque hai voluto... No, beh sì, ho qualcosa da aggiungere. Cioè, tu hai... Dillo, abbiamo aperto questo canale, perché sei tu quello che seguiva Favij all'inizio, abbiamo aperto il canale così per scherzo, poi alla fine ci è venuto piacere, abbiamo creato questi due personaggi un po' particolari. Sì, un momento però, se ti abbiamo detto tutto questo, eh? Volevo dire un'altra cosa. Arriva la stronzata, dimmi. Ti puoi sicuro? Eh, niente, con questo è tutto, credo di aver detto tutto quello che era necessario dire, era un video solo di presentazione, e se avete qualche domanda potete farla, noi siamo qui, nel nostro canale, che vi aspettiamo. Non siamo soli, c'è mia moglie la dito che sta alla bagno, darò. Niente, con questo è tutto, al prossimo video. Ciao! Ciao ciao!